Cari amici, la pioggia non mi ferma. Non ho potuto resistere al fatto di fare un video su questo fiore bellissimo, l'Eleborus niger. L'ho piantato io in un punto particolare. L'Eleborus niger è una ranuncolacea, una famiglia molto importante, io parlo spesso. Pensate alla Conitum per il raffreddore e per il cuore. Pensiamo alla Stafisagria per i problemi urinari. Pensiamo alla Pulsatilla, tantissime piante di cui parliamo, tantissime piante usate nell'omeopatia ma anche in fitoterapia sono delle ranuncolacee. Qual è la caratteristica delle ranuncolacee? Di essere piante estremamente velenose, quindi piante da non usare mai in fitoterapia ma da conoscere per usarle diluite in omeopatia. E in omeopatia sono piante preziosissime, sono piante che rappresentano la vera farmacopea delle problematiche acute, quindi questo è interessantissimo. Qui vedete allora questo Eleborus, pianta velenosissima, molte ranuncolacee sono estremamente velenose. Questa pianta basta toccarla, è velenosa anche se io tocco e trofino, posso intossicarmi. Quella pianta è veramente molto potente, molto velenosa. Si chiama anche rosa di Natale, è una delle poche piante che non solo sta bene al buio ma fiorisce durante l'inverno. Qui siamo in febbraio, è fiorita un po' in ritardo, ha bisogno del freddo e del buio, quindi un po' di turbamento pensando a un fiore così un po' sinistro diciamo. E di fatto è un fiore estremamente velenoso. Per cosa serve l'Eborus niger? Ma qui c'è una bella materia medica francese di omeopatia che spiega come l'Eborus niger è una pianta che è diluita omeopaticamente e si usa per gli stati gravi, per le malattie gravi. Un po' come dicevo prima, l'accondito si usa quando il cuore si trova delle gravi aritmie. L'Eborus niger in diluizione omeopatica, 200, 1000, 10000, si usa per i stati di stupor, malattie infettive, gravi, persona estremamente prostrata, siamo quasi vicini al coma, uno urina pochissimo, c'è un torpore mentale, una situazione molto grave, queste febbri così elevate e così via, si usa l'Eborus niger. Chiaro che al giorno d'oggi uno dice ma abbiamo cose molto migliori, però è utile conoscere anche questo. Nell'ambito del naturale la pianta omeopaticizzata per le cose gravi che colpiscono anche il sistema nervoso, la reattività dell'individuo, che vanno a inficciare anche la funzione renale, è l'Eborus. Poi non lo useremo però è utile saperlo. Quindi come conosciamo altre Ralluncolaceae, Rallunculus bulbosus, per l'herpes, Staphisagria, dicevo, per varie situazioni, accoglione, dobbiamo conoscere anche questo, l'Eborus niger. Quindi pianta bellissima, da guardare ma non toccare, diremmo, e nel momento in cui, vedete, sta fiorendo l'Eleborus con questi colori meravigliosi, vicino però avremo anche altre Ralluncolaceae come l'Epatica triloba, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, che invece non è così tossica e può essere anzi uno stimolo di depurazione del fegato. Quindi non sono tutte uguali le Ralluncolaceae, ma alcune, come l'Eleborus niger, sono particolarmente belle, particolarmente peculiari, ma anche molto tossiche. Quindi attenzione, non andiamo a sfregare, a farsi una tisanina con l'Eleborus niger, l'Eleborus niger in tisana ti uccide molto rapidamente. Se ti interessa vedere questa pianta, ma tantissime altre piante che ho posto nel parco di dati, qui ho messo centinaia di piante medicinali del tutto caratteristiche, ti incito, ti raccomando di entrare a far parte della Masterclass. Potrai vederle, potrai venire qua qualche giorno anche sotto la mia guida a discuterne, e vedrai queste piante bellissime che pochissimi conoscono, perché anche questa pianta è una pianta che non è che si trova in giro, è una delle tante piante che sono proprio caratteristiche del nostro parco didattico Masterclass. Arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.